bad boy ha covacciato che spara io non ci credo io credo sia uno delle peggio ah ma è impossibile non c'è nessuno dietro ah oh tranquillo obiettivo alfa neutralizzato attenzione obiettivo alfa è che qua ma non stiamo a giocare che cazzo ma nel frattempo che entri quelli sono responati tra i loro attenzione abbiamo appena neutralizzato l'obiettivo bravo attenzione 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 Ascoltate, l'obiettivo Alfa è sotto il nostro controllo. Vieni questi. Ho un kit medico per te. Vabbè, io ho spunto. Non ce l'ho di fianco, c'è la terra. Non ce l'ho di fianco. Non ce l'ho di fianco, non ce l'ho di fianco. Non ce l'ho di fianco, non ce l'ho di fianco. Ascoltate, l'obiettivo bravo neutralizzato. Secondo da questo ci spune un atto, per forza, sta pronto proprio. Ho vinto un soldato di video! A terra! Scogli il tuo kit medico! L'obiettivo bravo è appena stato neutralizzato. L'obiettivo bravo è stato conquistato. Oh! Che volete? Vieni qua, vieni. No, a me non è giocato, è appena sceso. Ho appena sceso, l'obiettivo. No, a me non è giocato, è appena sceso. No, a me non è giocato, è appena sceso. Ho individuato un soldato nemico. Volevi nascere a terra! Ho individuato un soldato nemico. Abbiamo il controllo dell'obiettivo Alfa. Non controlliamo più l'obiettivo bravo. Non troviamo vicino. Non troviamo più l'obiettivo. No, non troviamo più l'obiettivo. Ragazzi, lo volete un T5? C'è un gruppo come uno che non c'è un T5. È quello di FF. Sono misteriato. Sì Ma chi c'era? Sì 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 perchè l'emettivo è la prima si sono così se... 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 va giù messo se... se... a me va un po' a periodo ho detto prima ad esempio ero da una stessa che uno di shoot ma... ma... ma poi questo di shoot non dove si fanno non è stato il gioco mi ha fatto un attacco visivo si è perciò si è perciò ascoltate il obiettivo Charlie ed entra in giallo no abbiamo ieri completate l'obiettivo Charlie ha fatto il pacchetto tra i pacchetti verso in uscina no 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 non c'è E' stato neutralizzato. Vieni il kit medico, vallo a prendere Vieni il kit medico, avuto presto Vieni il kit medico Vieni il kit medico Ehm, il kit medico Deve nevole y vare alex saluta anche con il granitato io ero sicuro ci sono le vecchie tanti ecco il medico con le vecchie tanti abbiamo il controllo dell'obiettivo bravo c'è un esempio gradata occhio ah dai questo secondo me è il geloso perchè non so ma di diambico gli bruciamo qualcuno mi sa che chi è pure uno smapp questo qua non hai messo 5v5 e non mi scomperò più ha fatto bene un soldato nemico anche in libero la prima c'è un zato nemico contatto visivo vado con le pavere con il connovol di cese c'è un nemico per te ecco il kit medico raccoglilo no una scrim le gite abbiamo il controllo dell'obiettivo charlie ascoltate l'obiettivo alfa è centralizzato ci stai dicendo che bisogna un pf attenzione l'obiettivo charlie è stato il kit medico il kit medico il kit medico il kit medico Se abbiamo avuto vinto vincere un partito No no, già stanno dietro l'air dog Non so con chiudicolo, perché c'è quello che non so Ma dopo 2-1 Se vincere la west vincere direttamente Per differenza direttamente Sennò dovrebbe appare ultima Non so con chiudicolo